Noi abbiamo fatto una cosa storica. La prima volta, non credo, è la prima volta, è l'unica volta in cui cittadini hanno fatto un percorso insieme per costruire una legge e non una legge qualunque, la legge elettorale. La legge più importante è quella che è detta le regole. Abbiamo dimostrato che si può fare, che la democrazia diretta è una realtà ed è applicabile. Qualcuno potrà dire si può fare meglio, sicuramente si potrà fare in mille modi migliori, però abbiamo dimostrato che si può fare. Contro tutte le cassandre, tutti quelli che in questi anni hanno detto voi siete pazzi. Sì, noi siamo pazzi, siamo utopici, perché crediamo che se non hai un'utopia non raggiungi neanche i risultati intermedi. E allora noi vogliamo raggiungere il risultato della democrazia diretta. I cittadini devono essere interpellati per la costruzione delle leggi e in particolare per le leggi più importanti. Sono stati, è stato durato circa due mesi. Ogni settimana c'è stato un intervento di un esperto che ha spiegato gli elementi da votare e poi tutti gli iscritti al portale hanno potuto esprimere la loro posizione. Con questi step è stata costruita l'ossatura della legge elettorale che oggi i colleghi vi presenteranno. Ripeto, una cosa storica. Questo è l'elemento, a prescindere dai contenuti e dal risultato. Perché ribadiamo, noi siamo in questo momento in Parlamento, la dimostrazione di una rivoluzione di processo. Che sia chiaro anche per coloro che cercano sempre di trovare il pelo nell'uovo del voto XY all'emendamento 3.425. Noi siamo qui non per una rivoluzione di risultato ma per una rivoluzione di metodo. Il giorno in cui il processo cambierà e ritornerà la politica in mano ai cittadini e non una delega in bianco, noi avremo compiuto il nostro dovere. E avremo raggiunto l'obiettivo e in quel punto potremo anche cessare di esistere. Siamo un movimento biodegradabile da questo punto di vista. Quando raggiungeremo il nostro obiettivo noi potremo anche non esistere più. Ma il nostro obiettivo è rivoluzionare il metodo e il modo in cui si fa politica. Oggi presenteremo oltre la legge elettorale fatta dai cittadini, presenteremo anche un disegno di legge sulla incandidabilità e incompatibilità e un disegno di legge sul conflitto di interessi. Io vorrei che sia chiaro che sono due disegni di legge fondamentali per ripulire il Parlamento. Se vi ricordate il nostro slogan era tutti a casa e perché siano tutti a casa coloro che hanno portato il Paese in questa situazione, sono colpevoli, bisogna individuare i colpevoli. E non dovete dimenticarlo perché se il Paese è in questa situazione c'è un colpevole e c'è quella classe politica che ha governato in questi anni. E allora bisogna mandarli tutti a casa. E i passaggi sono la legge sul conflitto di interessi per togliere lobby e legami, lacciuoli, le mani legate dei parlamentari, e la legge sulla incandidabilità e incompatibilità, che è anche questa essenziale per rendere i parlamentari liberi nelle loro scelte. Do la parola adesso a Riccardo Fraccaro, che ci presenterà il testo del disegno di legge sul conflitto di interessi. Buonasera, cerco di portare l'attenzione su una materia che è uno dei temi rimasti irrisolti e più importanti nel nostro Paese, appunto il conflitto di interessi. Materia che tutti i partiti, in particolare la sinistra italiana, il centro-sinistra italiana, ha sempre dichiarato in campagna elettorale di voler risolvere, salvo poi dimenticarsene una volta finite le elezioni. Ecco, noi vogliamo ricordarglielo oggi, questa è la nostra proposta sul conflitto di interessi, si può votare subito e risolvere questo annoso problema. In realtà sono finite le elezioni e quindi se ne sono già dimenticate e oggi cercano di farci credere che il problema di questo Paese è una presunta inefficienza dell'iter legislativo, dei procedimenti democratici del nostro Paese. In realtà non è così. Il Parlamento italiano ogni anno produce più leggi di qualsiasi altro Parlamento europeo. In particolare il triplo, i parlamenti come la Spagna e la Francia, il doppio della Germania. Abbiamo 350.000 leggi e ci ricordiamo tutti provvedimenti come il Lodo Alfano, votati in 20 giorni. Quindi il problema non è che le leggi non si riescano ad approvare, ma non si fanno leggi per i cittadini. Perché? Perché i parlamentari non rispondono alla cittadinanza, ma rispondono esclusivamente a interessi personali o di lobby. E quindi noi vogliamo porre fine con questo provvedimento che è subito votabile, domani in Parlamento, all'eterno inciucio. In particolare noi crediamo che il conflitto di interessi vada, e questa legge si riferisce in particolar modo per le cariche di governo e le nomine delle autoriti, vada sconfitto in maniera preventiva, non colpendo gli atti in maniera postuma. E quindi lo svolgimento della funzione pubblica deve essere esclusiva. La sussistenza di altre cariche o la sussistenza di patrimoni ingenti determina conflitto di interesse. Qualsiasi carica governativa deve indicare il proprio patrimonio e le cariche ricoperte all'antitrust, che ha per la prima volta dei poteri anche di controllo autonoma, e in caso di incompatibilità ha il dovere di recedere dalle cariche e di conferire il proprio patrimonio in eccesso a una società fiduciaria. Inoltre le cariche di governo non possono aggiudicarsi contratti pubblici nel settore di competenza o in quelli connessi. Non possono esercitare attività in regime di monopolio, di autorizzazione o concessione pubblica, nei settori radio-televisivi, editoria, diffusione tramite internet o di interesse nazionale. Inoltre riteniamo che in caso di conflitto di interessi l'antitrust debba avere dei poteri di sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione reputazionale. Cioè deve dare indicazione attraverso i mezzi di comunicazione dell'avvenuto riscontro del conflitto di interessi. Infine, e questa è una novità rispetto soprattutto a tutte le altre proposte di legge, c'è la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Questo è uno dei tasselli fondamentali per riportare trasparenza e onestà all'interno dell'esercizio della funzione pubblica. Adesso passo la parola alla mia collega Dadone. Grazie. Buonasera a tutti. La mia proposta di legge riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei parlamentari, quindi il conflitto di interessi non dal punto di vista delle cariche di governo, ma di quelle dei parlamentari che andranno a comporre sia il Parlamento italiano che quello europeo. Da che cosa nasce questa proposta di legge? Dall'esperienza ingiunta per le elezioni in questo primo anno. Ci siamo resi conto che ci sono moltissime lacune legislative, molto spesso l'interpretazione è anche abbastanza lacunosa e tendenziosa da parte dei partiti. Abbiamo tentato in giunta per le elezioni di cogliere il senso della razza e delle norme, soprattutto in tema di ineleggibilità, ma non c'è stato modo perché purtroppo la lacuna normativa crea dei problemi notevoli e quindi ci siamo trovati ad avere per esempio un comitato in elegibilità, una sorta di arringa in cui noi eravamo la pubblica accusa e gli altri partiti sostanzialmente gli avvocati difensori dei propri deputati. Ecco perché questa proposta. Una proposta di legge che va a definire che cos'è il conflitto di interessi. Il conflitto di interessi non solo del patrimonio, del parlamentare, ma anche del settore in cui è inserito e in particolar modo dei rapporti che ha con la pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione intesa in senso più ampio, non solo Stato come Stato, ma pubblica amministrazione in tutte le proprie diramazioni. Sulla base di questa definizione di conflitto di interessi abbiamo poi messo dei paletti alla definizione di ineleggibilità e di incompatibilità. Ineleggibili, coloro che nei 300 giorni antecedenti all'accettazione della candidatura ricoprissero un determinato tipo di incarichi, per esempio i presidenti e gli assessori di regioni, di province, i sindaci di qualsiasi tipo di comune indipendentemente dalla dimensione, così come gli assessori comunali di città metropolitane, i capi di gabinetto e vicecapi, prefetti e viceprefetti e generali delle forze armate dello Stato. Abbiamo introdotto una limitazione per i magistrati, i magistrati che abbiamo svolto nei sei mesi antecedenti all'accettazione della candidatura, non sono eleggibili, così come i direttori e i vicedirettori dei giornali, perché? Perché svolgono un ruolo particolarmente delicato, per cui era giusto mettere un limite temporale alla loro possibilità di candidarsi. E poi abbiamo modificato l'articolo 10 del DPR del 57, per cui chiunque ricopra cariche di rappresentanza legale o ruoli di dirigenza, gestionale e amministrativa, di controllo e di vigilanza, anche per interposta persona di società che abbiano rapporti con la pubblica amministrazione o che svolgano attività in regime di autorizzazione, di licenza d'uso o concessione rilasciata dalla pubblica amministrazione, intesa in tutte le sue diramazioni, o società che operano in regime di oligopolio, monopolio, in settori strategico nazionali, sono ineleggibili. Abbiamo poi previsto dei paletti altrettanto stringenti per l'incompatibilità, però qui abbiamo previsto un limite temporale più limitato di solo i 180 giorni prima, dicendo che oltre a tutte le persone che sono in conflitto di interessi, come definito dalla legge, dalla nostra di legge, chiunque ricopra un'altra carica di natura elettiva, non possa essere compatibile con la carica di deputato o di senatore. Però abbiamo dato una possibilità, cioè l'opzione. Se una persona viene trovata in condizione di incompatibilità, ha la possibilità di optare. Se non lo fa, scatterà la sanzione. Questa è una notabilità che vale sia per l'ineleggibilità che per l'incompatibilità, cioè una sanzione che è pari a quattro volte nel caso di un'ineleggibilità tenuta nascosta da parte del deputato, quattro volte l'indenità percepita fino al momento dell'individuazione della causa di ineleggibilità. E nel caso in cui invece il deputato colpito da incompatibilità non si sia liberato della carica elettiva o della carica dirigenziale ricoperta, fino a otto volte l'indennità percepita. Una sanzione anche per il partito, chiaramente perché non ha avuto modo di controllare i propri candidati, per cui una decurtazione di una quota del finanziamento pubblico, perlomeno finché ci sarà. Altra grossa novità rilevantissima è che abbiamo pensato, questo sempre dato dall'esperienza, finora è stata la giunta per l'elezione di Camera e Senato ad occuparsene e questo ha fatto sì che fossero i deputati ad occuparsi di altri deputati. Abbiamo mantenuto la possibilità di svolgere un'attività istruttoria da parte delle giunte, ma abbiamo introdotto la possibilità di fare ricorso da parte di chi ne abbia interesse alla Corte Costituzionale. In questa maniera la Corte Costituzionale potrà stabilire quali siano i deputati elegibili o ineleggibili o comunque il caso del singolo deputato. Io vorrei portarvi a riflettere sul fatto che persone come per esempio il deputato genevese di cui oggi è stata concessa l'autorizzazione all'arresto in giunta, se ci fosse stata una legge come questa neppure sarebbe potuto entrare alla Camera, per cui teniamo conto di una situazione di questo genere. Con dei paletti stringenti le situazioni cambierebbero completamente. Questa proposta di legge è ora sul portale, per cui la metteremo in discussione con i cittadini perché questo è il nostro modo di lavorare. Grazie. Buonasera a tutti. Per me è veramente un immenso onore presentare quella che è la prima legge, come giustamente ha detto Vito poco fa, della storia, la prima proposta di legge elettorale fatta dai cittadini. Per me è un immenso onore perché mi sono appassionato personalmente alla materia della legge elettorale, penso di averne capito l'importanza. Certamente tutti noi abbiamo capito che dalla legge elettorale dipende il modello della democrazia che vogliamo. E da questo presupposto noi abbiamo deciso quale metodo utilizzare. Il metodo che abbiamo deciso è quello della condivisione, della partecipazione e della decisione da parte di tutta la rete. Ci sono stati otto quesiti tecnici, giustamente come ha detto Vito presentati da un professionista, si è aperto un dibattito cui noi parlamentari abbiamo partecipato nella risposta ad alcuni quesiti da parte degli attivisti e di cittadini in generale. E questi otto quesiti tecnici si sono trasformati in circa 250.000 votazioni online. Che hanno trasformato, hanno creato che cosa? Hanno creato, come abbiamo detto, questa prima proposta di legge elettorale fatta dal basso. E io volevo sottolineare che questo esempio di democrazia diretta prova l'immensa distanza, quasi la contrapposizione o l'opposizione tra il nostro metodo di lavoro, ovvero sia un metodo orizzontale che parte dal basso, cittadini che si documentano e consapevolmente decidono come creare quella che è la legge che definisce le regole del gioco, le regole della democrazia, cioè la legge elettorale, e dall'altra parte una maggioranza che si chiude in un bunker di due persone, Renzi e Berlusconi, e decidono all'insaputa di tutto il Parlamento e all'insaputa di tutti i cittadini come definire le regole del gioco. Questa, da una parte, la democrazia reale, la trasparenza, dall'altra la chiusura è un qualche cosa che si avvicina più a un sistema dittatoriale che a un sistema democratico. Cosa abbiamo creato? Abbiamo creato una legge che garantisce contemporaneamente la rappresentatività, garantisce la governabilità, garantisce il rapporto tra eletto ed elettore e garantisce il potere dell'elettore. Questo, e sto per indicare ora, è la trasformazione, quello che hanno portato le otto votazioni. Innanzitutto abbiamo abolito quello scempio del premio di maggioranza. Abolendo lo scempio democratico del premio di maggioranza abbiamo abolito le coalizioni. Non esiste più un collegio unico nazionale, esistono delle circoscrizioni, come ha votato il web, le circoscrizioni intermedie, che noi abbiamo definito in una media nazionale di 15 seggi, che di conseguenza porta ad una distribuzione dei seggi all'interno della circoscrizione. Capite bene come questo ha già un effetto enorme. L'effetto che comporta è che l'assenza di premio di maggioranza, l'assenza di coalizione, significa che l'eletto dipenderà dall'elettore. Questo è il primo passaggio fondamentale che non ha precedente nella storia italiana. Oggi abbiamo dei parlamentari di un Parlamento che non conta nulla. Perché l'elezione del parlamentare dipende da un capo, dal suo capo di partito, peggio ancora da un capo di coalizione. Ma peggio ancora la sua rielezione dipende sempre da questo capo. Perché è un Parlamento fatto di nominati e perché lui, l'eletto, non dipende dall'elettorato, ma dipende dal proprio capo. Noi con le circoscrizioni intermedie, eliminando i primi di maggioranza, diciamo che l'elettore richiama sostanzialmente l'eletto. E se l'eletto non risponde alle istanze dell'elettore che l'ha votato, o non risponde, non gli spiega, non lo fa partecipare durante l'iter della legislatura, l'eletto non verrà rieletto nelle successive elezioni. Questo abbiamo ottenuto senza una modifica costituzionale, abbiamo ottenuto un vincolo di mandato sostanziale. O lavori e mantieni le promesse, o ci spiega a cittadini, a elettori, cittadini in generale che cosa stai facendo in Parlamento, o la politica non può essere per te il mestiere con cui andare avanti. Cosa abbiamo introdotto come altro elemento per dare ancora più potere di partecipazione e di decisione ai cittadini? Abbiamo introdotto le preferenze. Come potete vedere le modalità di voto che abbiamo inserito, abbiamo votato il cosiddetto panachage, cioè la divisione in due schede elettorali. Alla mia destra vedete la scheda elettorale dove l'elettore si recalseggio e può barrare il simbolo. Sotto vedete un elenco di nomi, in questo caso sono dieci, una circoscrizione con dieci seggi. L'elettore cosa può fare? Può andare a cancellare uno o due candidati della lista che ha votato. Uno, se la lista ha circa dieci, dodici seggi, se ha più seggi invece potrà cancellarne anche due. Questa cancellazione, questo potere che stiamo dando ai cittadini, che porta ad un'evoluzione finalmente, sottolineiamo, del livello di democrazia e di partecipazione, ha un effetto straordinario. Il rinnovamento immediato della classe politica. Se il cittadino Mario Rossi va a cancellare uno o due di questi candidati, toglie una porzione di voto al partito che ha votato. Sottolineo, può cancellare solo i candidati della lista che ha votato. Cancellandoli, ripeto, toglie una porzione di voto. Ciò significa che le forze politiche sono obbligate a non candidare mai più impresentabili. Noi abbiamo risolto in questa maniera il cosiddetto voto mafioso, il voto di scambio. Non ci potranno essere più i genovesi, non ci potranno essere più i mafiosi, non ci potranno essere più quelli che utilizzano decine di milioni di euro delle lobby o loro per portare avanti una campagna elettorale. Perché i cittadini onesti e consapevoli li cancelleranno. I partiti, se non vogliono perdere voti, con questa legge elettorale dovranno candidare gente onesta, competente, trasparente ed è questo di per sé un passaggio fondamentale che porta ad un rinnovamento della classe politica. Ovviamente l'elettore può anche esprimere una preferenza, ci sarà una seconda scheda che potete vedere essere molto molto semplice nel quale l'elettore può andare a esprimere una preferenza cosiddetta positiva. Di qua cancello una quota di voto e si faccia una cancellazione, significa che tolgo un decimo del voto perché ci sono dieci seggi, dieci candidati. Da questa parte posso esprimere una preferenza e permettiamo all'elettore di esprimerla in qualsiasi lista, in qualsiasi forza politica, non una preferenza all'interno della forza politica votata. Significa che posso votare un partito e posso preferire dall'altra parte un candidato di un altro partito. L'effetto che ha questo è di limitare anche questo passaggio, questa divisione in due schede, il cosiddetto voto di scambio perché il voto di scambio è abbinato al simbolo. Di conseguenza può accadere che il mafioso prenda decine di migliaia di preferenze positive ma al suo partito, siccome il simbolo è disgiunto dal suo nome, poche centinaia di voti. Significa che noi abbiamo svincolato le preferenze dai voti alle forze politiche. Il mafioso prende tantissime preferenze, il suo partito ne prende pochi voti, il mafioso non entra in Parlamento. Questo secondo noi è un'impianto di legge elettorale assolutamente innovativo e rivoluzionario ma soprattutto un impianto di legge elettorale che è stato fatto dai cittadini. Con questa legge elettorale i cittadini potranno intervenire fortemente sulla scelta della classe politica e indirizzare l'attività politica. Noi pensiamo che sia un progetto fondamentale, molto bello nel merito e molto bello nel metodo ma soprattutto questo progetto è applicabile da domani, è immediatamente attuativo. Abbiamo tutte le circoscrizioni disegnate, sono 42 circoscrizioni con una media di 15 seggi. Lo sbarramento del 5% deciso dal web è stato inserito all'interno delle singole circoscrizioni non ovviamente nel Collegio Unico Nazionale perché il web ha votato, la rete ha votato le singole circoscrizioni quindi otteniamo anche l'effetto di eliminare la frammentazione partitica. Da una parte Porcellum e Itali con due leggi elettorali schifezza che producono una frammentazione enorme di partiti per vincere il malloppo del primo di maggioranza partiti tra loro finti, falsi, diversi, che non rappresentano nessuno qua una legge elettorale che obbliga i partiti piccoli perché è una legge elettorale che ha vantaggi grandi che svantaggia leggermente i piccoli obbligandosi a coalizzarsi tra loro ma non in coalizioni, a fondersi, significa unità e omogenità all'interno dei partiti. In una sola legge elettorale otteniamo questi tre effetti fondamentali. Vi ringrazio ovviamente e rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento. Grazie Danilo, grazie Riccardo, grazie Fabiana. Questo sistema permette la non riconoscibilità del voto ed è questo l'elemento per esempio innovativo. Sicuramente qualcuno dirà che siamo troppo avanti, che forse stiamo immaginando un qualcosa di rivoluzionario ma siamo qui per questo, per andare oltre a quello che è sempre stato, quello che ci hanno propinato come l'unica soluzione possibile. Noi abbiamo dimostrato che per tutto c'è un'altra possibilità, un'altra soluzione. Quindi adesso se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Va benissimo così, grazie. Volevo capire se laddove si mette la preferenza positiva, cioè si indica, è un nome preso dalle liste del partito? Comunque, ovviamente, certo, deve essere candidato nelle liste del partito. E perché tu hai fatto un collegamento tra, se c'è il mafioso che prende molti voti di preferenza, chiamiamolo positivo, perché qua si cancella e là invece si indica, il suo partito ne prende meno e quindi non passa comunque. Ecco, non ho capito bene questa relazione, nel senso che poi lo cancellano da qua. Grazie, scusa, era un po' complicato. Allora, la preferenza positiva inserita in questa scheda, che è praticamente una scheda bianca con un rigo in cui il cittadino può scrivere un nome e un cognome, può essere presa da qualsiasi denome che tu in questo momento stai leggendo, anche di un partito differente. Ciò significa che noi stiamo dando al cittadino non solo la possibilità di creare una propria lista di forza politica, in questo caso ad esempio con la cancellazione, ma stiamo permettendo di creare una sorta di coalizione, perché esprime delle preferenze differenti. Quindi io posso preferire anche un candidato di una forza politica differente dalla forza politica, dalla lista 1 votata. Ok? Questa lista 1 vale 10 voti. Io se cancello Sergio Arancio, primo, questa lista vale 9 decimi. Quindi abbiamo tolto un decimo. Significa che gli altri candidati, gli altri 9, saranno molti... Questa l'ha capito. Non c'è... Allora, qua si sono solo preferenze. Non sono quote di voto, qua non sono voti di lista. Qua si distribuiscono esclusivamente le preferenze. Se tu giungi questa da questa, qua si distribuiscono i seggi solo se i partiti hanno preso i voti. Si distribuiscono i seggi tra i più preferiti, ovviamente, del partito che ha ottenuto seggi. Ma se la lista 1, che è la lista di impresentabili, ha preso pochi voti e nonostante il primo candidato mafioso, la lista 1 ha preso tantissime preferenze, non prenderà neanche un seggio. L'effetto di eliminare il voto di scambio. Io volevo sapere una cosa. Voi siete sicuri che questa lista, che di fatto è una lista bloccata, sia pure con una possibilità di intervento, diciamo, trasversale, negando un... sminuendo il valore di uno dei nomi, sia coerente con la sentenza della consulta, che invece era contro le liste bloccate? Dove è scritto che la lista è bloccata? Perdonate, questo dove non l'abbiamo mai detto. La preferenza. Questa è la lista... Questa lista è fuori dalla preferenza. La preferenza, diciamo... No, no, non ci... È separata perché è fatta col panasciaggio e non sulla lista votata. No, no. Questa è la lista, come se fosse il manifesto elettorale. Questa è la lista. Nella scheda, oltre al simbolo, è elencato anche l'elenco dei candidati della lista, per i quali in questa scheda puoi esclusivamente scegliere di escluderne uno. La preferenza è quella che decide tra questi candidati chi verrà eletto della lista che ha avuto i vari voti per avere il seggio. Quindi non c'è una lista bloccata. Ma se per ipotesi non ci fosse nessuna preferenza, l'eletto sarebbe quello nell'ordine di lista, in teoria. Nessuna preferenza, mi sembra un caso. Almeno il suo, ognuno se lo vota. Vabbè. Cioè, diciamo, solitamente. No, diciamo, comunque, quando si scrive una norma giuridica, diciamo, si fanno tutti i casi, l'ipotesi. La lista che piglia pochi voti, per esempio, e che ha tutti i candidati sconosciuti, potrebbe anche non avere voti di lista, cioè non è che proprio del tutto... Però, ascolti, per precisazione, la sentenza della consulta aveva detto che non dovevano esserci le liste bloccate se le circoscrizioni fossero state molto grosse. Il principio è la conoscibilità dell'elettore. Se la circoscrizione è medio-piccola, anche se fosse bloccata le liste, essendo estremamente corta, in ogni caso ci sarebbe la conoscibilità dell'elettore. Qui non è proprio questo caso, per cui non ci rientriamo proprio, neanche volendo. Ecco, chiariamo, non ci sono liste bloccate. Questa lista è la lista dei candidati da preferire, punto. Nessuno di questi candidati viene eletto se non c'è la preferenza. Solo il caso limite della non preferenza a nessuno, ma, cioè, vorrei vedere quando è mai capitato, cioè se questa è una lista che ha preso dei voti, tra questi nessuno prende neanche una preferenza, ma neanche una, che basterebbe una e uno passa. Ecco, il concetto è questo, per cui sembra un caso. È previsto, perché nella legge, come ben, cioè, è chiaro che vengono previsti tutti, la legge deve prevedere tutti i casi limite, ma anche nelle leggi vecchie, dove c'erano le preferenze, veniva previsto il caso limite. Scusate, non ho capito una cosa tecnica. Se io voto sul conteggio dei voti, come avverrà, se io voto la lista gialla, la lista 4, e poi però dependo un candidato, perché ritengo che sia corrotto, voi avete detto che quel voto vale 9 decimi e non un decimo. Ma che vuol dire che è un voto che vale di meno? Cioè, il voto alla lista è un voto o no? Allora, il voto alla lista... E poi, scusate, chiedo un'altra cosa così. La legge elettorale è passata al vaglio della rete, anzi, nasce dalla rete. Le altre due sono già state sottoposte alla rete? No, non mi sembra. Sponto la prima. Allora, diciamo così. La lista gialla, come tutte le liste, vale 10 decimi. Tolto un candidato, la lista vale 9 decimi. Quindi perdiamo una quota decimale di un decimo. Lei immagini che tante quote decimali tolte significano poi unità di voto, e di conseguenza significano molti voti, e di conseguenza significa che gli altri candidati e il partito stesso rischia, inserendo gente impresentabile, di perdere molti voti. Perché è un elettorato attivo e consapevole che magari comunque vorrebbe votare la lista gialla, in realtà non accetta all'interno della lista gialla la presenza di un specifico candidato e lo cancella togliendo una quota di voto. Quindi, votando la lista gialla, eliminando il primo, prende un voto meno un decimo, qui 9 decimi. Quindi, se ci sono 10 impresentabili, perde un voto. Perfetto. No, 10 impresentabili è paradossale perché non verrebbe votato, ovviamente. È cancellabile uno solo? Uno o due. Le cancellazioni sono uno o due, secondo il numero di seggi. I miei di seggi a livello nazionale sono 15 e si va da alcune circoscrizioni con 5 e 6, le più piccole, ad altre con 42 che sono Roma e altre Milano e Napoli che sono le più grandi e che abbiamo poi, nella legge che abbiamo depositato ieri, nella proposta di legge che abbiamo depositato ieri e che tra pochi giorni sarà sul portale e quindi sarà visibile a tutti nel suo formato analitico-legislativo, sarà indicato tutto. Noi le circoscrizioni ampie le abbiamo divise in sottocircoscrizioni in modo tale che non ci sia una lunghezza eccessiva del nome dei candidati dentro la lista e quindi che ci sia comunque una conoscibilità da parte degli elettori dei candidati. Quindi 10, 12, 13 al massimo. Allora, per quanto riguarda l'altra domanda, la legge elettorale è stata costruita insieme ai cittadini ed era il primo esempio di legge, anche perché è la legge più importante, e sarà costruita step by step. Le altre due leggi rientrano nel programma che ci si è andati fin dall'inizio, che era quello del conflitto di interessi, ineleggibilità, incandibilità, Parlamento pulito, era la parola chiave da quando abbiamo iniziato, l'8 settembre del 2007, tutto questo percorso. Quindi Parlamento pulito è la chiave di tutto. Le due leggi, come tutte le nostre leggi, saranno messe sul portale Lex e saranno commentate dai cittadini per 60 giorni il tempo normale. Quindi le due leggi sono presentate e saranno sempre, come tutte le nostre proposte di legge, sottoposte al vaio. Mentre quella è stata proprio costruita, quindi sono due tipi di percorsi attuabili e abbiamo dimostrato che si può fare in entrambi i modi. Cioè si può costruire una legge, e questa è la cosa più rivoluzionaria, come si può proporre una legge e chiedere il contributo dei cittadini. Io vorrei portare in questo caso un esempio sulla legge e sulla proposta, una proposta che avevo presentato io sull'abolizione dei senatori a vita. Leggendo i 2000 commenti alla proposta di legge che era semplicissima, abolire l'articolo dei senatori a vita, mi sono reso conto che forse, seguendo i commenti, il testo migliore era un altro ed era, e ancora lo stiamo definendo, quello di lasciarli i senatori a vita, ma senza diritto di voto e senza indennità, perché potessero dare il loro contributo, quindi come una carica onoraria, potessero dare il contributo tecnico, scientifico, culturale, artistico al Paese. Quindi capite l'importanza di sottoporre ai cittadini una legge prima di presentarla. Questo è, ti permette di migliorarla. Non ci avrei mai pensato a questo passaggio, se non fosse arrivato quasi unanime questo messaggio. E così vale per questi passaggi. Sicuramente nella proposta di legge che ha presentato Fabiana ci saranno ulteriori elementi cittadini che solleveranno casi che non abbiamo previsto. Ma vi siete dimenticati del caso del X della persona E? Ecco, e allora Fabiana dirà ecco, quella ce ne avevamo dimenticati e la metteremo dentro. Quindi questo non scappe. Questa è la forza, la potenza del metodo rivoluzionario. Ultima questione tecnica sempre sulle preferenze. Perché mi sembra di ricordare che nella vostra proposta iniziale il voto di preferenza veniva dato solo nel caso in cui cancellavi un nome dal voto della lista in cui votavi. questa cosa è rimasta oppure puoi votare anche la preferenza per un candidato di un altro partito dopo senza aver espresso Allora essendoci due schede abbiamo proprio disgiunto dall'effetto del panasciage il voto alla forza politica in questo caso a una delle quattro liste presenti su questa scheda dalle preferenze. Qua i voti servono per distribuire i seggi. Vanno all'interno delle circoscrizioni in cui l'elettore si reca a votare i voti vengono distribuiti la circoscrizione Lombardia ha 30 seggi adesso non mi ricordo 40 seggi gli elettori lombardi vanno a votare e in base ai voti presi esclusivamente sulla base di questa lista le forze politiche hanno una divisione dei seggi. Una volta divisi i seggi si va a questa seconda scheda le preferenze servono affinché i 20 seggi della lista gialla diventino 20 candidati eletti. Giusto per chiarire le due schede vengono disgiunte in due urne separate e quindi non è possibile collegarle quindi non c'è neanche appunto quel discorso della conoscibilità del rapporto diretto tra il voto della lista e il voto della preferenza quindi la persona è libera di poter scegliere una lista che contribuirà ad avere i seggi di scegliere una preferenza che contribuirà qualora la sua lista dovesse avere un seggio a che quella persona possa essere l'eletto quindi due urne separate e quindi si perde anche il collegamento tra le due con l'elettore che è l'elemento che rende ancora più irriconoscibile il voto. Passa così grazie a tutti della presenza e dell'interesse.